grazie al sindacato brigata grazie per dormire qua siamo in via verdi come asia usb davanti al mercato c'è uno sfratto stamani abbiamo deciso di fare questo picchetto di solidarietà perché una famiglia rischia di finire mezza la strada c'è una donna in attesa di trapianto e purtroppo dei servizi sociali non ci sono risposte sarà un aprile di lotta perché oltre a picchetti antistratto alla lotta contro gli sgomberi vogliamo riporre al centro la questione del diritto nell'abitare in ogni sua forma e quindi abbiamo deciso di lanciare una grande campagna non da soli ma insieme a tutte quelle associazioni quelle forze politiche quelle cittadine e quei cittadini che sono indignati vogliamo lanciare una grande campagna per il diritto all'abitare contro questa amministrazione che è del tutto inadeguata a dare delle risposte sul sociale e Grazie a tutti.